bentornati amici di youtube sul mio canale oggi vi parlerò ancora una volta di giradischi io non volevo girare questo video perché lo ritengo superfluo e abbastanza noioso però alcuni utenti alcuni iscritti del mio canale mi hanno commentato al di sotto del video del giradischi di casa di mostrare loro quale fosse il giradischi che io utilizzo per l'ascolto della musica io ho avuto e ho tuttora tantissimi giradischi quello che utilizzo nel salone di casa per ascoltare della buona musica è il technics sl m3 un giradischi tangenziale lineare che ha delle grandi qualità delle grandi doti forse molti di voi non sanno nemmeno dell'esistenza dei giradischi tangenziali molti altri invece sapranno di cosa sto parlando ad ogni modo questo giradischi di casa technics è un vero e proprio gioiello un gioiello di tecnologia un giradischi molto raro io sono molto fortunato ad essere il proprietario di questo giradischi dopo vi racconterò un po la storia di come sono entrati in possesso di questo mitico technics vi ricordo inoltre che se non siete ancora iscritti al mio canale cliccate sul tasto in basso a destra di qua di là non lo so e cliccate anche sulla campanellina al fine di non perdere l'aggiornamento dei vari contenuti che vengono caricati di volta in sul mio canale il technics sl m3 come vi dicevo è un giradischi tangenziale quando è stato prodotto dal 1984 al 1988 aveva sicuramente un costo proibitivo per l'epoca visto che il giradischi 1600 quindi un giradischi che allo stesso periodo storico del sl m3 costava circa un milione e ottocento mila lire penso che questo sl m3 non sia costato in quegli anni meno di due milioni e mezzo di lire quindi era un giradischi all'avanguardia un giradischi molto costoso ma chiaramente il prezzo era giustificato dalle performance dalle soluzioni tecniche che avevano adottato in giappone questo technics sl m3 ha una canna in titanio ha il movimento del braccio chiaramente motorizzato ha la possibilità di essere controllato con degli appositi tasti per l'avanzamento o l'arretramento del braccio ha la possibilità di controllare la rotazione del piatto rotante attraverso un potenziometro a slitta il pitch ha la possibilità ancora di selezionare la grandezza del vinile la possibilità di ripetere il vinile quando è arrivato a fine corsa e quindi ritorna dalla prima traccia ha la possibilità ancora di offrire all'utente quella di gestire totalmente in automatico il giradischi oppure in modalità manuale adesso vi racconto un po come sono entrato in possesso di questo giradischi straordinario circa due anni e mezzo fa ho acquistato il technics sl m3 da un amico in provincia di napoli questo giradischi non funzionava perché aveva il motorino che aziona il braccio che fa muovere il braccio rotto in realtà era stato sostituito con un motorino differente non originale che aveva poi causato la rottura di un componente elettronico sulla main board del giradischi il piatto venne acquistato tanti anni fa circa 40 anni fa presso una base militare nato le persone più esperte sanno di questa circostanza perché lo spinotto della rete elettrica la presa elettrica è differente e presenta un adattatore da presa americana a presa europea i giradischi technics dotati di questo adattatore quindi con presa americana hanno sicuramente una provenienza nato troverete tantissimi technics 1200 e 10 che hanno questa caratteristica e se chiedete ai proprietari dove l'hanno acquistato loro vi diranno sicuramente la provenienza è quella lì presso le basi militari nato questo giradischi lo si trovava fino a 10 12 anni fa anche per 100 euro nei mercati dell'usato oggi invece ha raggiunto quotazioni molto elevate nel caso in cui sia tutto originale e mantenuto in ottimo stato di salute io ho acquistato questo giradischi non funzionante con la promessa di ripararlo ci sono parzialmente riuscito circa un anno e mezzo fa ho acquistato un altro giradischi technics tangenziale lsl l3 al fine di poter prendere il motorino che azionava il movimento del braccio allora partiamo subito con la descrizione di questo piatto ha un pattern molto pesante ha un pattern equilibrato dalla fabbrica quindi non ha difetti in rotazione è stato bilanciato ed è circa un chilo un chilo e due più pesante del tradizionale piatto del technics 1200 per capirci quindi un piatto che ha un'inerzia straordinaria l'errore della rotazione è veramente ridotto al minimo qual è la caratteristica principale di questo mitico giradischi è appunto la lettura lineare del vinile a cosa serve serve a eliminare quello che è l'errore di tangenza della stilo all'interno del solco del vinile se voi andate a sbirciare un po su youtube e vedete come vengono prodotti i vinili nella fase di masterizzazione nella fase di incisione il vinile viene inciso in maniera tangenziale quindi è la stessa tipologia di movimento che poi viene riprodotta dal piatto tangenziale quindi dei giradischi con il movimento lineare del braccio questo perché il la stilo all'interno del solco sarà posizionata in una maniera differente se sta al centro del vinile se sta all'inizio del vinile o se sta nella fase terminale quindi verso il centro del nostro disco infatti la stilo inizierà una vera e propria rotazione all'interno del solco e questo è il cosiddetto errore di tangenza nella fase di lettura dei vinili il piatto technics tangenziale in questo caso il mio bellissimo io sono orgoglioso di avere questo sl m3 evita questo piccolissimo difetto adesso passiamo subito nel vedere il giradischi technics in funzione e vi farò vedere anche quelli che sono i componenti che sono andato a sostituire per ridare nuova vita a questo giradischi eccoci finalmente davanti il nostro sl m3 ho rimosso il coperchio antipolvere e adesso possiamo passare con l'accensione del nostro mitico sl m3 si accende in questo punto come potete notare si accendono i led per la lettura della velocità stroboscopica questo è il piatto rotante qui c'è uno slip mat in gomma questo è il braccio in titanio del tecnics un'altra luce di servizio per vedere il disco e l'avanzamento della puntina questa invece è la parte deputata a coprire tutto il meccanismo di movimento del braccio qui invece abbiamo i controlli come vi dicevo in apertura del video la modalità manuale o automatica la modalità 33 45 giri la selezione della grandezza del vinile 7 pollici o 12 pollici la velocità il pitch la velocità di rotazione del piatto il reset del pitch quindi se vogliamo mantenerla sullo zero oppure la vogliamo azionare attraverso il potenziometro a slitta in questa posizione non lo mettiamo sul reset poi abbiamo come vi ho detto i led per la velocità stroboscopica del nostro piatto rotante abbiamo qui dei pulsanti lo start stop e l'avanzamento o l'arretramento del braccio adesso vi mostro che cosa succede quando premo questo tasto guardiamo il braccio il piatto inizia a ruotare e la puntina la stilo il braccio si mettono in posizione 12 pollici per la lettura del vinile grande il vinile classico guardiamo invece che cosa succede se selezioniamo il vinile 7 pollici andiamo a premere il tasto di avanzamento il piatto inizia a girare il braccio si posiziona all'altezza dell'ipotetico vinile 7 pollici che abbiamo posizionato al centro del nostro giradischi adesso invece vi mostrerò il movimento del braccio tangenziale ho provveduto a svitare queste quattro viti al fine di poter alzare questa maschera di plastica che protegge tutto il meccanismo qui c'è il il contrappeso del braccio ci sono delle regolazioni ci sono i tiranti per il movimento c'è l'elettronica che controlla il c'è l'elettronica che controlla il q e questo è il motorino di cui vi parlavo collegato alla vite infinita che va ad razionare l'avanzamento e l'arretramento del braccio proviamo adesso questo technics con un in vinile a 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 modo ad ascoltare un po di musica, non amplificata chiaramente, sul fine di farvi vedere l'avanzamento del nostro braccio, guardate che precisione! Grazie per la visione! Che cosa succede se il vinile finisce? Come vi ho detto possiamo selezionare questo tasto per far ripetere nuovamente tutto il vinile, tutto il disco. Diversamente se noi non premiamo questo tasto, una volta che il disco è finito il giradischi ritornerà nella posizione iniziale e il piatto rotante si fermerà. Io per spostare la puntina devo azionare l'avanzamento. Ora con questo tasto abbasso la tasto sul vinile Grazie a tutti! Adesso per finire questo video vi mostro il giradischi che ho utilizzato per riparare il giradischi tecnix SL-M3. Ho acquistato questo tecnix tangenziale SL-L3. Lo mostro all'interno. sesso meccanismo per il movimento del braccio. I tiranti sono stati da me tolti e anche il motorino. Il motorino infatti è stato prelevato per riparare il tecnix SL-M3 che avete visto pochi minuti fa. Il motorino che ho prelevato dal tecnix SL-L3 è stato installato in questo punto coperto da una guarnizione in plastica in gomma. Al suo posto il mio amico aveva fatto sostituire da un riparatore il motorino rotto con questo. Chiaramente è una soluzione che ha poi causato la rottura di un altro componente elettronico e cioè una resistenza posta sulla scheda madre. Questa resistenza si era bruciata perché probabilmente, cioè sicuramente, l'assorbimento di questo motorino era differente da quello originale montato da casa Technix. Siamo giunti al termine di questo lunghissimo video e spero che vi sia piaciuto. Spero che l'abbiate trovato interessante. Sicuramente è un prodotto di nicchia. Non appartiene ai classici giradischi con il movimento tradizionale del braccio. Lasciatemi un commento, fatemi sapere la vostra e non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale.